Il legno permette a milioni di persone di rendere l'acqua potabile, di cuocere il cibo e di costruire case. Ma il legno può fare molto di più. Il legno può servire per costruire grattacieli e sostituire la plastica. Con i progressi della scienza, il legno sta cambiando il modo in cui guardiamo il mondo. Come ci vestiamo e come ci spostiamo rispettando il clima. Grazie alle nanotecnologie, il legno può aiutarci a guarire e a trovare nuove cure. Il legno ci porta perfino nello spazio. Quando le foreste vengono gestite in maniera sostenibile, il legno è una risorsa rinnovabile. Scegliamo legno sostenibile per l'umanità e per il pianeta. Grazie. 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 Grazie.